Ciao a tutti gamers, noi siamo Sara e Gianmarco, i gameslovers Siamo tornati su Pokémon Unite e oggi ragazzi abbiamo avuto l'idea di provare Blaziken Sì, abbiamo ricevuto in regalo, essendo uscito Blaziken poco tempo fa, la licenza Unite per tre giorni Esatto Quindi abbiamo deciso che, adesso io Sara, probabilmente Sara, userà in una partita normale, da dieci minuti, il proprio Blaziken Esatto Vi faremo vedere la build che abbiamo provato in allenamento Vi faremo vedere un po' Blaziken, visto che è il nuovo Pokémon che è uscito comunque da poco Molto particolare rispetto a tutti gli altri Sì, cambia tutto, cioè nessun Pokémon ha il suo tipo di... come si può dire? Nel senso, tutti gli altri Pokémon tu scegli una mossa, a parte Mew Tutti gli altri Pokémon tu scegli sempre una mossa e una mossa, tra due Con Blaziken, con la Unite, una Unite la usi e cambi mosse, diventi tipo calcio, viene chiamato, tira calci Esatto, o tira pugni Oppure tira pugni, ma se tu clicchi la Unite cambia lo set, quindi hai sempre le due combinazioni di mosse attive E' veramente particolare e sicuramente non è facile e ora lo proveremo insieme No, non sarà semplice Intanto vi faccio vedere un po' quello che abbiamo potuto capire Esatto Sul come usarlo Buildarlo Buildarlo E vi faccio vedere qua Allora, useremo la bandana, che aumenta la difesa speciale e la difesa E se al Pokémon rimangono pochi PS, questo strumento gli fa recuperare una parte dei PS persi al secondo Sì, perché non ha molta vita, è un versatile ma non ha tantissima vita Blaziken E quindi così lo potenziamo un po', poi la Filartigli aumenta la probabilità dei brutti colpi e l'attacco L'attacco, ricordiamo che Blaziken è un attaccante fisico Esatto E poi useremo la Vulneropoliza, aumenta l'attacco e PS E quando Pokémon subisce dei danni aumenta per un po' il suo attacco A volte Pokémon subisce danni e più l'attacco aumenta Perfetto È un versatile che deve andare addosso in mischia, quindi potrebbe subire molti danni E beh Più viene picchiato, più lui picchia E non solo, se volete vi faccio vedere le mosse, praticamente cosa succede? Il blocco di mosse con la United attiva, cosa succede? Quando sei nella forma pugni, hai fuoco al colpo e fuoco pugno E fuoco pugno Quando sei nella forma calcio, hai vampata e calcio ardente Pokémon subisce due pugni nella direzione indicata e friggendo danni all'avversario colpito Vampata è da caricare Caricare, più la tieni premuta Esatto Quando poi la lasci, più è caricata, più fa danno E accumula forza sul posto, deve stare fermo Deve stare fermo, quindi molto vulnerabile, non è semplice Esatto, poi fuoco al colpo, aumenta una palla di energia concentrata nella direzione indicata Che esplode all'impatto con gli avversari o dopo un percorso di una certa distanza E calcia ardente, assesta un calcio balzando nella direzione indicata Infligendo danni agli avversari colpiti e respingendoli Balza su un nemico Riducendo anche la velocità di movimento Perfetto Ok, la United, come abbiamo detto Diventa o pugno ardente e turbinante o fuoco calcio e turbinante E la cambia ogni volta Un po' tipo come anche, adesso non conosco bene il Mew, però so che puoi cambiare sempre le mossa Ecco, però lui è molto 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 particolare Come medaglie abbiamo scelto le basi di quelli che utilizzano la maggior parte degli attaccanti fisici Ovvero sei marroni e possibilmente anche le sei bianche Sei bianche, io ragazzi non ne ho ancora abbastanza L'ho portata a cinque Però sarebbe appunto sei e sei Quindi quattro e quattro l'è attivato Sarebbe sei e sei Marroni e bianche è la combinazione base per gli attaccanti fisici E niente, andremo a provarci una partita intera Esattamente, io userò il Mewtwo in giungla Giusto per provare a vincerla magari E andiamo Eccoci ragazzi, ci siamo Ok, cliccato E andiamo a piccarlo subito Me lo fregano? No? E' qui? Perfetto, l'ho preso Confermiamo Blaziken E andrò Attacco fisico, ok Si, c'ho attacco fisico E andrò come ha consigliato nel percorso inferiore Gary Fox ragazzi Percorso inferiore Blaziken Ah Me lo consiglio Ah, l'oggettino L'oggettino, allora O velocità d'attacco Quindi forse O attacco X Si, io forse ti direi velocità X Velocità X Comunque che aumenta la velocità del movimento del Pokémon E impedisce che ne venga ridotta Quindi comunque se tolgo qualcuno Che ti potrebbe diminuire la velocità Non me la diminuisce Non succede se tu ho clicchi ovviamente Non l'ho mai cliccato prima Abbiamo in squadra Un Vesperon che va top E un Delfox che va top E un 0 ora E vai giù Dovrei versere con te Se vai in giungla Lo banno Mewtwo X ragazzi E Blaziken anche contro Mamma mia Una sfida nella sfida Sfida nella sfida Blaziken Verso Blaziken E Mewtwo vs Mewtwo Io non l'ho mai provato X-Calibur E sono impedita Quando devo che cacare troppe cose E qua mi sembra proprio che devi spammare le abilità Mi Ok Mewtwo c'ho 400 trofei ragazzi Eccarino torci Sì Cercheri farò salire più in fretta possibile Ma se c'è 0 ora di squadra Vediamo dove va 0 ora ragazzi Se viene in giungla Lo banno Perfetto No non è venuto giù con te Sì esatto Ok Perfetto Anche lui deve salire vero Chi si è ovvio No dico 0 ora Sì Infatti Purtroppo Mi rompe un po' Mi rompe un po' Sì Basta poco poi Che differenza Basta molta Qualcuno mi ha rubato un po' Ma l'assalto lo posso fare due volte Non lo so Questo è lui che faceva avanti e indietro Ma ecco era assalto Perfetto Ma qua sono in tre Che era un senso Sì Devo dire che il jungler è sceso Il jungler è sceso Io sono salito ovviamente Niente arrivo giù Ok Facciamo il giro Tanto io Due kg E' già combattere questo Io no Dipende da chi è in che squadra Dipende dai quei alleati 0 ora tra chi il lato però Sì sì ero lì Buono Ora mi killa Corpitch 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 Ragazzi Ma sono ancora Sono ancora torcido Mi sa che è molto lenta la salita Mamma mia Molto 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 lenta Prendilo prendilo dai Ti lo faccio prendere Vado giù io Prendilo Mamma mia Oh grazie Caccia al dente Attenzione ragazzi 0 ora c'ha un rosso Ah vuol dire che chi lo trova Non mi ha rubato niente Sì sì ha chiamato prima Vieni vieni Vediamo un caccia al dente Wey La lupente quella c'è Bello Porca Si sta uccidendo a tutti Stanno sciottando ragazzi Ma chi era Non ho capito se è stato No no Oddio Chi è stato A me è Blaziker Ma mi stava togliendo un botto Chandelier Non so come Cioè Non so come mi stava togliendo un botto Chandelier Ragazzi Ma tantissimo proprio E' un po' bello però Calci al dente ragazzi Mi torna Rosso e blu Eccolo Ok Ok Dai devo cercare di evolvermi Eh sì Ok E' molto molto dura ragazzi Un po' come ho mangiato E' un po' difficile Vediamo se Devo farlo Ma ma sta facendo dreadnought Aspetta Vai 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 Che noi stai facendo qua Abbiamo Blaziker in qua ragazzi Ma devo rubarli Vai Vai Abbiamo fatto dreadnought Ah no voi dreadnought E' noi roton Perfetto Dai 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 Uh No Eh ma l'ho shottato Chandelier Ragazzi shotta Non ho capito che cosa c'ha Chandelier Viva la marea Mi sa che la difesa speciale è bassa Ragazzi Ho vampata Non ho capito che La stavo cliccando E' no E' no La devo tenere premuta Deve tenere premuta vampata Sì Vampata va tenuta premuta Qua abbiamo distrutto Parecchio eh Grazie a rotom Vediamo po' Ah no Devo lasciarla così E poi ricliccarla Ah clicchi E poi riclicco Ora voglio vedere Cosa mi combina Perché non lo capito Perché mi sciotta Ah ecco E' cagare C'è No Sono tutti qui ragazzi Sono tutti proprio qui Sono tutti qua Non posso farci niente Io ho cambiato Sono tutti su Ho cambiato Ma Volevo vedere Facare colpe Fuocopugno Sono tutti su ragazzi Mi tu Ratchelon Shandalerio Belfox Sono tutti su Proviamolo un po' E' no tu Ravversale In luta 40 falloni Ah è la spena di energia Esatto Ok Tira i due pugni Che però posso riusare Ah Vabbè Ho più Sto e cosa Sicuramente l'altro Lo sta usando Molto meglio di me E magari Non ho chissà quanto Ragazzi Capirà la prima volta Dovremmo essere in vantaggio Perché vedo che abbiamo visto Due basi Tutti qua Aspetta un po' Che devo asfattare tutti ora Testa a testa Vabbè ma No Mi hanno sciottato Veramente ha pochissima vita Da sola non ci posso andare Punto Da sola Però forse Non stiamo perdendo Sono io che sto un po' Facendo Ciccare Però Non fai malissimo Aii Perché non mi ha tappato Ma perché ragazzi Non mi ha tappato Ero lì Nella base Perché ho detto Che la tappo Appena che la tappo Scendo le eri Clicco per mutare le palline E mi vedo il video fermo Che non fa niente No Mi è arrivato Rotom Allora Noi infatti stiamo andando A fare Oddio ma chi è L'hanno fatto a dread Non loro Mi sa Ho visto Ma dai dai Si Chi l'ha to Chi l'ha Bladdy Mamma mia Già L'ho P Vediamo se possiamo battere I nostri avversari Allora Devo dire È difficile Si Un po' come il sensor Ora lo sto usando un po' meglio Lo da come difficile Secondo me bisogna usarlo tanto Bisogna usarlo tanto Certo Capire per che non funziona Tanto Tanto Ma lo da infatti come è difficile Amore normale No Dovevo direzionarla ragazzi Eh si occhio Non dilazionarla Non ci credo Non dilazionarla Direzionarla 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 è un'altra cosa Si Ah no Ma beccato Glaccia Becchiamo l'hampet Dai vieni qua L'hampet Non t'ho preso L'hampet si Lo vieni a scendola Io non ho messo una pallina Neanch'io O forse una volta Pochissime Io mai Molto 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 poca Non è facile Non è facile Allora Andiamo insieme Però devo dire che non mi dispiace Eh Se prendi che incontro Ma perché non ho tirato blazing Ragazzi Non capisco Che prima Oh Attenzione Con la ultima Ho shotato Adesso Mi 2x avversario Vediamo chi vince Sono mega Sono mega No Ma che lato Ma era mega Come è possibile Non è possibile Lui nemmeno Dai voglio buttare le pannine Non ce la farò mai Non ce la farò mai Ragazzi che era ora Ma ce la faccio No è arrivato ora È arrivato ora Non ce l'hai fatta Eh sei fin di vita Capito set Ehi Ciao Ciao Se mi arrivano in 2 o 3 E' finita Stavo buttando le pannine Mancavo il millimetro Espeon Perché mi stai rubando la giungla Espeon Io ti banno Perché sei da bannare E mi hai preso anche il blu Basta Espeon La bannare Partita Pari Siamo molto pari Mamma mia Dipende da tutto Da chi farà Zapdos Dipende tutto Da chi usa L'altro lo sta usando molto bene Vabbè ma sarà anche bravo Ma la c'è un quanto corre Scusate La c'è un vola ragazza Ho sparito davanti Queste palline 8 7 Ci siamo Ci siamo Ah me ne tengo le 50 Da buttare appena Eh C'è il cooldown Però poi mi rubia anche i minion Ho trovato i minion Ho sparito Veloce a far Zapdos ragazzi Tutti a far Zapdos Poi ce lo stileranno alla fine Ce lo stileranno alla fine Guardiamo L'abbiamo fatto Ce l'abbiamo fatta L'abbiamo fatto Via veloce Sì Dai alla fine Ci stiamo riprendendo Guardate come No 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 Sì Buttate Buttate 200 palline Scusami Delphox Ho trovato la base Perdonami Sì Grande Ulti Lì in mezzo Magari per qualcuno 100 anche Blaziken No Non sono riuscita a buttare La vampata La vampata 20 ciao 20 secondi Autonome più Le buttate però Sì Sì Le buttate E anch'io Perfetto 200 buttate sicure Ho rubato la base Delphox Mi scusi Delphox Guarda mia Ragazzi blaziken Bisogna usarlo tanto Impararlo E ovviamente Bisogna giocare Però siamo in tasso di paricchio E stiamo vincendo Eh sì Come un quarto base Ecco ci sono Benissimo Sono già passati 20 secondi Ancora state secondi In attesa Allora No no Si usa la perfezione De basta 100 glacio ragazzi 100 palline glacio Dobbiamo difendere come Se non ci fossero domani Scusami L'ho stillata a tutti Sono arrivato Bravo Devinazione Mi piacciono tanto le mosse Sì Mi sono state E poi Avevano i quattro Diverse Delphox bloccalo Delphox bloccalo Espeon Ok E poi avevano i quattro diversi Non sembra Ma è bello È molto È appunto Essendo proprio Versatile È molto versatile È molto versatile È molto versatile Vai vai 100 zera ora ragazzi Anche zera ora Le butta Anche zera ora Le butta Sì Eravate tutti lì Cioè no Io ero qui De basto di Benziken Di Sara Io no Sì Io no Ma sì Mi hanno vinto Abbiamo vinto Ma 800 a 200 ragazzi Non ha fatto niente Questa rasta vinta sì Ma non per me Attenzione Sara Non di kill Ma sì Non di kill Ma di palline sì Sì Io ho vinto E io ho battuto Il Mewtwo Di palline E di un assist 8-8 Grazie Mi piace Sono contenta Che ho buttato Più palline Dell'altro Blaziken Per consolazione Da anni Va bene Ha fatto 20.000 Da anni in meno Non è che ne hai fatti Di più Io ne ho fatti 20.000 In più Tra l'altro Mewtwo Delfox migliore Della squadra Sì era bravo Mamma mia Sì era buono Delfox Niente ragazzi Blaziken È veramente È bello È bello L'unica cosa È che a me Fa pensare Nel senso che Io Cioè devo fare Il doppio Delle cose Che magari Fai alcuni Con alcuni pokemon Fai lo stesso danno E con lui Cliccare Due o tre volte Fare le sue abilità Dipende anche Chi hai contro Secondo me Cioè fai il doppio Del lavoro Tra virgolette Dipende anche Chi hai contro Sì anche E con Perché se avessi Un buon supporto Un buon Beh quello È sicuro Esatto Vediamo Cosa abbiamo qua Vittoria sta Tracciando Sì Quello Sì Chi è questo Ma chi è M'è invitato Anche a me Battere Era ora Che ci ha invitato Entrambi prima Eh sì O Delfox Esatto E niente Parteciparle lotte Usando i nuovi pokemon Disponibili Ricevi Mi ha dato Un pacchettino Bladeziken Apriamolo Cos'è questo Niente Con cento Di codi Fai missioncine Ti carica Valore di codi Di via cento Per aprire Perfetto E niente ragazzi Per questo video Su pokemon È tutto Abbiamo provato Bladeziken Che è Buono Un nuovo pokemon Uscito Molto buono Sì Buono Bisogna impararlo Provarlo Giocarci tanto E Sicuramente Molto più di quello Che ho giocato io Visto che era la prima volta Che lo usavo È la prima volta Sì Mi hanno vinto È andata bene Esatto Vinci l'abbiamo vinto Ci vediamo al prossimo video Su pokemon unite Sì Vi ricordiamo di iscrivervi al canale Se non lo avete fatto Mettere mi piace Attivare la campanella Per essere sempre aggiornati Quando uscirà Un nostro nuovo video Alla prossima Ciao Ciao